Ciao Gabriel, devi scegliere, non abbiamo molto tempo. Ci proteggono dall'anarchia. Armonia, pace. È una bugia, si prendono tutto. Hai un lavoro da fare. Se ci ribelliamo, c'è una possibilità. Una scintilla. E la guerra di Vampa. Quei giochi sono finiti. Ho per voi degli aneddoti abbastanza singolari su un paio di attrici. Per esempio, sapevate che Megan Fox ha dichiarato in un'intervista che crede a tutti i miti irlandesi? Sì, soprattutto all'esistenza degli elfi. Invece Lady Gaga ha paura dei fantasmi, soprattutto di uno che si chiama Ryan, che è convinta che la stia ossessionando. E ha speso 50.000 dollari per un rilevatore di campi elettromagnetici progettato per scoprire i Potterdates. Oh, poverina, comunque ha fatto bene, sei più tranquilla. Ragazzi, vi ricordo che ci trovate anche su TikTok, trovate in infobox il link. Ci seguite anche lì. A presto. Grazie. Grazie.